Fare esperienza, portare la scuola a confrontarsi con il lavoro attraverso una vera e propria gara di abilità e fornelli in sala. L'istituto alberghiero Malatesta di Rimini, assieme ad altre scuole delle Marche, ha partecipato in Macedonia a un concorso internazionale di cucina, al quale hanno preso parte 32 nazioni, in tutto 600 giovani. I nostri ragazzi si sono ben comportati conquistando medaglie d'oro e d'argento. Per noi sono come le Olimpidi dell'inogastronomia, quindi è una cosa molto importante. Oggi abbiamo fatto questa rimpatriata perché questi ragazzi così si sono rivisti, si erano conosciuti in quell'occasione e oggi hanno riconfermato la loro omicizia. Qui abbiamo una ragazza che ha vinto la medaglia d'oro, sentiamo un po' cosa ne pensa anche lei, però è stata molto brava, ha sbaragliato tutte le sue avversarie che aveva di fronte. È stata una bella esperienza perché abbiamo conosciuto molti ragazzi, non parlavano la nostra lingua, quindi è stato un po' faticoso parlare con loro, comunicare, però alla fine è stata una bella esperienza e ringrazio la mia scuola per avermi dato l'opportunità di partecipare. Entusiasti ragazzi che in Macedonia hanno soprattutto condiviso momenti di socialità e di amicizia. Ho partecipato al concorso, è stata un'esperienza molto emozionante, molto bella e ho conosciuto tantissima gente e oggi siamo qui per festeggiare appunto, abbiamo fatto un ritrovo per festeggiare la manifestazione insieme agli altri miei compagni. Siamo riusciti a ritrovarci e riparlare della bellissima esperienza che abbiamo avuto in Macedonia, che è stata non solo utile ma anche bellissima. E spero che ci sarà una prossima volta perché ci ha fatto proprio vivere questa esperienza stupenda in Macedonia, questo viaggio stupendo, ci ha fatto imparare, vivere, sognare, infinite cose. Ringrazio gli studenti e gli insegnanti per aver partecipato a questa giornata, a questa esercitazione della nostra scuola. È un modo per mostrare a tutti quanti che la scuola può creare eccellenze, come questi studenti che hanno provato durante il concorso le loro competenze e può creare fortissimi legami di amicizia.